Ciao ragazzi, buonasera a tutti, bentrovati! Allora, mi dicevo già che questo sarà un video un po'... siamo io, voi e i vicini di casa, però non posso fare più di tanto perché il periodo è quello che la gente nelle case entra ed esce in continuazione perché si scambiano gli auguri, quindi per me, io quando accendo il microfono ho abitato in una zona, in un appartamento a primo piano, quando accendo il microfono io capto sempre le chiacchiere che giustamente fanno nell'appartamento di giù, quindi ragazzi non posso fare nulla, questo video uscirà a gennaio, però lo sto registrando sotto le feste, quindi è un piavai di gente, macchine, cercherò di farvi rilassare comunque. Allora, questo di oggi è un video hand movement con appunto movimenti delle mani davanti alla videocamera per cercare di rassicurarvi con delle carezze, farvi sentire a vostro agio. Spero che quando aprite un video vi sentiate a vostro agio ragazzi, vi sentiate a casa e basta semplicemente questo, hand movement, whispering e nulla ragazzi. Vi auguro buon rilassamento, ok? Non pensate a nulla, abbandonate tutte le negative. Vedete che sono nella testa che sono nella testa, i brutti pensieri che vi frullano, abbandonateli, lasciateli via, lasciateli andare via. E ci sono io qui che vi agcarezzo, vi agcarezzo anche l'anima possibilmente. Vi faccio sentire, vi faccio sentire a vostro agio, al caldo, in una situazione perfetta, oserei dire. vi faccio sentire a vostro agio, 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 contanti. уг��are la direzione 엄청assamente sulla ... ingresa e al grewo di amico sur la vostra pelle, sul vostro viso. carezzi 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 And, 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 and movement And, 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 and movement Respira piano Butta fuori piano il respiro Respira piano E butta fuori piano il respiro Concentrati soltanto, soltanto, soltanto su di te Su di te soltanto Rilassati, rilassati Ci sono le mie mani qui Ci sono le mie mani Le mie mani A rassicurarti A rassicurarti Ad accarezzarti A dirti che andrà tutto bene Andrà tutto bene Andrà tutto bene Andrà tutto molto bene Sentiti accarezzato dolcemente Dalle mie mani Chiudi gli occhi O se preferisci Lasciali aperti Fatti avvolgere Fatti avvolgere Dal calore Delle mie mani Davanti alla telecamera 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 Lasciati avvolgere Lasciati avvolgere Lasciati avvolgere Lasciati avvolgere Il respiro sempre tranquillo Devi mantenere il respiro sempre tranquillo Sempre tranquillo Fai così Insieme a me Bravissimo Continua a respirare E il calore delle mie mani che arriva da te Continua a respirare sempre Così come stai facendo lentamente Non sentirti affannato Assolutamente no Continua a respirare Continua a respirare dolcemente Dolce 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 ti accarezzo dolcemente ti accarezzo dolcemente ti accarezzo dolcemente e lascio fluttuare le mani le mani davanti a te lascio fluttuare le mani ipnotiche davanti a te lascio fluttuare lascio fluttuare fluttuare in questa maniera le mie mani davanti a te lascio che tu ti rilassi lascio che tu ti possa rilassare al massimo devi sentire sempre a tuo agio ricordatelo sempre devi sempre devi sempre sempre sentirti a tuo agio con te stesso e lo sarai anche con gli altri spero che le mie mani ti abbiano scaldato ti abbiano rincuorato carezze and movement ti abbiano fatto stare meglio 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 io ti saluto e ci rivediamo in un prossimo video ciao ciao ciao